Epson ha presentato a Fa la cosa giusta la propria adesione al progetto Etichetta per il clima di Lega Ambiente, un'autodichiarazione di impatto ecologico relativa ai propri prodotti. L'Etichetta per il clima è un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare gli utilizzatori finali sull'emissione di CO2 dei prodotti che si trovano sul mercato. Ad oggi, nell'arco di un anno, sono stati qualificati e certificati 22 prodotti. Noi all'utilizzatore finale dichiariamo quanta CO2 viene emessa in fase di utilizzo di una stampante, quindi dichiariamo quanti chilogrammi o grammi di CO2 vengono emessi per pagina stampata. In Epson Italia abbiamo fatto innanzitutto un assessment, un LCA, condotto dall'Università Bicocca e in particolare dal centro di ricerca Polaris, per calcolare le emissioni di CO2 dei singoli dipendenti durante l'attività lavorativa. Poi abbiamo deciso di intraprendere delle azioni. Sicuramente la più importante è stata quella di installare sul nostro tetto un impianto fotovoltaico di 16 kW di picco. Un'attività, quella di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, che per Epson Italia inizia all'interno dell'azienda, dimostrando concretamente che anche un ufficio, un negozio e qualunque posto di lavoro può davvero essere ecologico.